Ciao a tutti ragazzi, qui è Vizio e benvenuti sul mio canale! Ragazzi, questo è un video trailer che faccio per tutti voi che per la prima volta approdate sul mio canale. L'obiettivo di questo video è semplicemente farvi capire tre cose. La prima, chi sono? La seconda, che cosa facciamo? E la terza, che cosa troverete all'interno di questo canale? Allora, iniziamo dalla più semplice. Io mi chiamo Alessandro, sono un collezionista, diciamo un collezionista un po' malato, ora che ci penso, perché mi piace davvero collezionare di tutto. Poi, che cosa facciamo all'interno del canale ragazzi? Noi in questo canale ci divertiamo e questo è un obiettivo, è quello che cerchiamo di fare ogni volta in ogni singolo video. Spesso vi troverete in compagnia delle mie due spalle, Marco ed Emanuele, e che avrete sicuramente modo di conoscere molto meglio all'interno del canale. Poi, che cosa troverete ragazzi? Perché giustamente uno dice, ma che cosa troverò all'interno di questo canale? Ragazzi, di tutto. Troverete sia dei prodotti per i più piccoli, come quelli di Ligola ad esempio, sia per i più grandi, perché a me piacciono tantissimo le statue di Resina, adoro collezionare le statue che sono molto costose e anche molto rare. Poi ragazzi, non mancheranno mai i pop, lego, videogiochi, anche con live, che spesso facciamo sul canale quando esce un gioco nuovo che ci piace, ce lo portiamo in live e ce lo giochiamo insieme. Inoltre, un'altra nostra grandissima passione sono i card game, quindi specialmente i Pokémon, troverete una quantità di spacchettamenti Pokémon infinita. Quindi ragazzi, spero che voi vogliate entrare a far parte di questa stupenda comunità che è VisioTV e spero che lo vogliate fare ragazzi in modo attivo, perché a noi ci interessa tantissimo comunicare con voi, parlare con voi, quindi fateci sapere se avete delle preferenze, fateci sapere se avete dei consigli che sono sempre ben accetti, mi raccomando, scriveteci sempre. Devo ammettere che questo non è il primo video trailer che creo nel canale, in realtà ce n'è uno che è anche molto facile da trovare ragazzi, perché è proprio il primissimo video che ho addirittura rinominato Impacciato Time, perché giustamente ragazzi era il primo video, non avevo molta esperienza, ora però che è passato tanto tempo e sono cambiate tantissime cose, ho deciso di rifare questo video proprio per cercare di trasmettervi maggiormente il nostro entusiasmo e la nostra voglia di fare video insieme. Dunque ragazzi, io spero realmente che questo video vi sia piaciuto e per ricordarvi di iscrivervi al canale, io vi mando i miei migliori saluti. Ciao ciao!